Ascoltiamo adesso come si comporta la B-Side 600 con un Music Man. Fingering, funzione B-String e Slap a disinserire. Inseriamo proprio il B-String. E inseriamo anche la funzione Slap per avere un po' più di profondità, un po' più di rumore di corda. Flia! Passiamo adesso allo Slap con il Music Man con la funzione B-String e Slap disinserita. Inseriamo il B-String. E la funzione Slap inserita. Veramente bello!